Gesù, attraversando la Palestina, guarisce un uomo muto dal demonio e quindi viene subito accusato che la liberazione del demonio operata da Gesù era un effetto di un'associazione tra Gesù e il demonio, quindi Gesù operava insieme al demonio, a disposizione del demonio e Gesù fa un'osservazione molto semplice, ogni regno diviso in se stesso è destinato alla fine e a riguardo, noi ne abbiamo l'esperienza, ma palese, permettetemi che faccio un riferimento all'ultimo congresso del PD e si sono lottati all'interno, si sono scissi, si sono divisi, speriamo che si salvino, però ogni divisione all'interno di un organismo, di un'azienda, ogni divisione, discordia nell'interno di una famiglia significa disfunzione della famiglia, disfunzione dell'azienda e noi ne abbiamo anche l'esperienza a pensare tante famiglie che si dissolvono e i figli cresceranno e poi si sistemeranno da soli, non è così. Gesù ha parlato chiaro, ogni regno diviso in se stesso è destinato alla fine. Quali sono le armi per combattere? e ritorniamo sempre al solito ritornello, ma quelle sono le armi, la preghiera, una preghiera intensa, una preghiera non tanto verbale ma una preghiera che viene dal cuore, la preghiera, la santa messa, i sacrifici, una volta c'erano i fioretti, i fioretti e le virtù. Gesù viene accusato di essere intemoniato. Nell'esperienza della vita spirituale di Padre Pio abbiamo anche questo risvolto. Padre Pio viene accusato di essere intemoniato. Può sembrare una foto, può sembrare un'idea strampalata che passerà, invece non è così. Una delle motivazioni, per cui la Santa Sede, in modo particolare il Sant'Ufficio, prende dei provvedimenti su Padre Pio, partono proprio in pass a questa diceria. Padre Pio è intemoniato. Per cui ci si metteva l'interrogativo. Ma sei intemoniato? Come celebra la messa? Com'è che amministra i sacramenti? Per cui è preoccupato di questo fatto e mandano il celebre vescovo Monsignor Carlo Rossi, un uomo molto scrupoloso, un uomo molto attento. Ebbene contusse un'inchiesta mortificante su Padre Pio, terribile. Però l'ordine del Papa era quello. Poi voglio sapere la verità. E quindi cominciano gli interrogatori con i vari fratti, con i preti del paese, ma in modo particolare l'interrogatorio con Padre Pio. Ogni giorno quattro incontri. Ogni incontro era preceduto e seguito da un giuramento. Quindi ognuno può far subito il calcolo quanto il giuramento al giorno faceva Padre Pio. La ultimo giorno Monsignor Rossi prende il credo, pronuncia i versetti del credo, credi in tuo padre onnipotente eccetera e Padre Pio credo. Quindi tutto il credo, tutti i versetti di fede del credo vengono confermati dal giuramento di Padre Pio. A questo punto Monsignor Rossi ritorna a Roma e fa una relazione bellissima su Padre Pio. Avvisa i cardinali e gli arciviscoli che erano presenti al Santo Ufficio di non sbagliare su Padre Pio perché era un uomo di Dio ed era tutto falso che Padre Pio fosse un indemnionato. La storia dice che a sentire questa espressione tutti si alzarono in piedi e dalla gioia cominciarono a battere le mani. Allora Padre Pio non è indemnionato. Frutto della massoneria si credeva che Padre Pio fosse indemnionato.